Rieccoci, un buonissimo sabato a tutti da Marcus, brevemente allora per quanto riguarda la previsione qui su YouTube abbiamo parlato dei numeretti 4-6 quindi su Milano-Napoli e il 6-8 su Cagliari-Torino perché c'è l'ambata contata che fa riferimento su queste quattro ruote principalmente su Milano-Napoli perché sono ruote unite e gemelle ma sono veramente spettacolari queste due ruote in passato vi ho fatto vedere cosa è successo con i numeretti e sembrerebbe che stavolta si ripete la situazione che è successa quest'estate su Milano-Napoli c'era il 4-6 e di nuovo poi quindi a novembre si ripete il 4-6 che poi dopo qualche colpo si dovrebbero ritrovare insieme o come Ambo o come Ambetto la stessa situazione l'abbiamo su Cagliari e Torino perché il 6 con l'ambata contata praticamente sconfina su Torino l'8 su Bari sconfina su Cagliari e voi sapete benissimo che Cagliari e Torino sono due ruote gemelle le ruote gemelle voglio ricordare per coloro che magari abbracciano il gioco dell'8 non sanno quali sono le ruote gemellari sono Bari-Venezia Cagliari-Torino Firenze-Roma Genova-Palermo Milano-Napoli quindi queste ruote funzionano sempre assieme vanno a braccetto e sono concorde fra di loro quindi se l'8 va a finire a Cagliari quindi prima situazione e il 6 va a finire a Torino abbiamo un 6-8 su Cagliari e Torino la situazione è uguale su Milano e Napoli il 6 va a finire a Napoli il 4 rimane intrappolato su Napoli ma si rifletta anche Milano perché le condizioni si ripetono poi sulle ruote gemelle quindi una situazione a incastro una situazione praticamente che rimangono i numeri i numeretti rimangono intrappolati su quelle ruote e allora probabilmente sono costretti a uscire o come Ambo o come Ambetto vedremo se uscirà un Ambatane o 5-6 colpi ovviamente poi si molla il gioco ma fino adesso se noi andiamo a vedere nel quadro a destra 1, 2, guardate i numeretti come spariscono vedete? si trovano insieme poi spariscono per poi dare il colpo successivo che vedrete che dovrebbero arrivare in linea quindi questa sera guardate se noi partiamo dal 13 novembre 1, 2 e questa sera terzo colpo di gioco per quanto riguarda la previsione data qua su YouTube con i numeretti ovviamente la tecnica lambata contata quella che è nel mio canale che vi ho sempre insegnato quindi non solo c'è il 4-6 su Milano e Napoli ma anche il 6-8 su Cagliari e Torino e vi ho detto anche probabilmente questi numeri potrebbero ritrovarci anche tutti insieme 6 passo 2 4-6-8 attenzione fate voi o su queste ruote o su quelle indicate o anche su tutte quindi se il portafoglio ve lo consente e potete giocare questo Terno Ambo Terno su tutte potete anche farlo questo è un consiglio che vi do perché probabilmente essendo della stessa decina quindi è probabile che si possano trovare tutti insieme e creare anche un Terno Secco non solo un Ambo ma un Terno Secco quindi la previsione è questa 4-6 Milano-Napoli 6-8 Cagliari e Torino quella che vi ho fatto vedere qualche giorno fa rimane tale quale abbiamo detto il terzo colpo questa sera per quanto riguarda la previsione sul Telegram che ho dato ieri sera primo colpo questa sera vedremo che cosa succederà in quelle due ruote come vi ripeto la tecnica è sempre quella e quella nuova che io ho fatto già ho messo in evidenza la settimana scorsa uscendo praticamente l'ambetto su Cagliari 36 e 76 questo qui aspettate che non ci sono eccolo qua 36 che è già uscito eccolo qua 36 e 76 la previsione era 36 e 77 Cagliari Ferenze ha dato l'ambetto bellissimo su Cagliari adesso un'altra situazione analoga su queste due ruote sempre unite vediamo su altre ruote unite e vediamo cosa succede in quelle due ruote l'ambata è quella riferita nel messaggio che ho dato stamattina su Telegram ovviamente i due ambi primari i due ambi che partono come conseguente come conseguenza di calcolo e poi ovviamente poi la quartina colvertibile ambo e ambetto mi raccomando l'ambetto non dimenticatelo perché può dare tantissime volte l'ambetto e quindi c'è un recupero delle spese che si fanno per quanto riguarda la giocata sono solo due ambi secchi su ruota ovviamente non tre ambi quattro ambi sei ambi ma due ambi per ruota allora invece per quanto riguarda qui su Youtube ripeto 4,6 Milano Napoli 6,8 Cagliari e Torino ambo e ambetto poi se volete fare anche 4,6,8 tutte e su queste ruote lo potete fare per quanto riguarda il 90 il 90 andiamo un attimino a vedere il 90 cancelliamo tutto resettiamo abbiamo visto che il 90 allora aspettate che ci sono ecco qua allora per quanto riguarda il 90 come vi dicevo l'ultimo 90 è arrivato su Milano scusate perché c'era il 90 su Roma che andava a finire proprio su Milano e Napoli le ruote rimangono sempre Bari Firenze e Torino anche perché se lo andiamo a vedere questo dovrebbe andare a finire su Cagliari ma abbiamo detto che Cagliari ha già dato e quindi adesso rimaneva Torino infatti vedete guardate 55,60,65,70,75,80,85,90 Cagliari e Torino ovviamente se uno vorrebbe giocare anche a Cagliari può giocare Cagliari non è detto che non possa uscire guardate cosa è successo su Milano e poi ovviamente può essere uscito anche su Genova fuori ruota quindi attenzione però avete visto che ha l'ambata contatta guardate un attimino al primo colpo su Roma praticamente Roma andava a finire su Milano primo colpo su Roma quindi questo di Milano adesso se voi fate la conta va a finire a Cagliari le ruote da noi sono Bari Firenze e Torino quindi se va a finire a Cagliari riflessa Torino che è la sua giomella quindi Torino però non ho detto anche su Cagliari andiamo a vedere giusto giusto un attimino colotto più più anzi non l'ho ancora aggiornato che al programma ovviamente si aggiorna da qua quindi non ho la connessione mi sono dimenticato vabbè poi lo faremo allora grafico lineare andiamo a vedere un attimino vabbè intanto andiamo a vedere un attimino Cagliari di nuovo andiamo sulle 600 astrazioni vediamo a che punto è Cagliari eeeh eh 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 Cagliari ritorna nuovo nei livelli di uscita eh attenzione eh Cagliari eh andiamo a vedere la sua giamella Torino quella che si attende su Torino andiamo a vedere un attimino e Torino sta tardando aiaiaiaiaiai Torino sta tardando e allora sapete così vi dico che se dovessi scegliere due ruote io allora sceglierei allora Cagliari perché Cagliari guardate vedete molto più lineare invece Torino riguardiamola allora 34 presenze andiamo a vedere è importante questi aspetti eh andiamo a vedere Torino vi ricordate che tutti i 90 che vi ho fatto vedere la maggioranza di quello che l'analisi dava poi ovviamente è andata è stata andata centrale 90 di Torino vediamo 34 Cagliari vediamo quanti ne ha eh 28 quindi ne ha di meno aiaiaiaiai scappa dal dal livello quindi statistico sta tardando guardate un pochettino e invece Cagliari è nettamente diversa guardate andiamo a vedere un attimino le posizioni di Cagliari allora prima terza e quinta dove va ambatta contata guardate l'ambatta contata il 90 va sempre come riferimento in quinta posizione guardate qua cosa c'è quindi Cagliari attenzione Cagliari potrebbe adesso diventare Cagliari la ruota migliore perché avete visto che Torino sta tardando ecco prima terza e quinta quindi insieme stiamo rivedendo un po' quello che si è andato a perdere con i 90 Firenze andiamo a vedere attimino Firenze che era quella con tutte le somme 90 peccato non è ancora uscito vediamo un attimino Firenze eccolo qua Firenze vedete che si livella di nuovo vedete che si livella di nuovo quindi Firenze attenzione Roma è uscito due volte a Roma ma non ancora Firenze rivediamo le posizioni di Firenze seconda terza ovviamente la quinta dove abbiamo ammata contata seconda terza quinta Firenze e poi Cagliari prima terza e quinta a Cagliari seconda terza e quinta a Firenze va bene e quindi Torino non lo so non lo so sta diventando tardiva quindi adesso in teoria Cagliari Firenze diciamo che dovrebbero essere le migliori ok ripetiamo Firenze le posizioni di Firenze seconda terza e quinta oppure potete fare la terza che è in assoluto e la quinta dove abbiamo ammata contata se volete fare la seconda vedete se c'è un filo di seconda poi la terza e la quinta io sto parlando di Firenze andiamo un attimo indietro abbiamo detto Cagliari perché Cagliari ha una frequenza abbiamo visto più livellata vedete stiamo andando sui livelli con se non è uscita quindi Torino mi sta delundendo davvero perché Torino sta avendo 70 ritardi avete visto oltre 70 perché dovevo aggiornare quello programmino quindi e Firenze se le posizioni sono queste vediamo un attimino eccole qua come vi ripeto prima terza e quinta scusate Cagliari prima terza e quinta Cagliari e non Firenze quindi Cagliari prima terza e quinta poi Firenze seconda terza e quinta va bene io direi che adesso le ruote allora a questo punto Cagliari e Firenze beh va bene dai ci risentiamo è facile vedete voi fate la conta di ogni numero poi chi ha l'8++ va a vedersi veramente i livelli di uscita perché avete visto Milano dopo quanto tempo è uscito allora non avendo aggiornato le estrazioni ritorniamo sull'8++ andiamo a vedere un attimino andiamo a sbirciare un attimino il 90 di Milano guardate un pochettino 130 estrazioni di ritardo guardate un po' ha preso largo a 130 estrazioni di ritardo giù di lì quindi adesso Torino purtroppo si sta sta tardando e adesso la migliore avete visto che è Cagliari va bene quindi dai Cagliari e Firenze saranno le ruote probabilmente con il 90 in uscita Cagliari e Firenze ci risentiamo da Marcus passatevi un buon weekend e noi ci risentiamo probabilmente questa sera se ci sarà una vista su Telegram oppure qui su Youtube con i numeretti un abbraccio sempre da vostro amico Marcus ciao